Ciao a tutti amici di YouTube, in questo video vedrete come attivare il Good Mode in Windows 10, ma se cercate altri trucchi, suggerimenti e personalizzazioni per questo sistema, vi invito a seguire la mia playlist a riguardo. Detto ciò, iniziamo. Sarebbe fantastico avere una cartella che contenesse tutti i collegamenti alle impostazioni di sistema, una sorta di pannello di controllo secondario. Certo possiamo usare l'app impostazioni di Windows 10, che si sta facendo sempre più imponente rispetto al datato pannello di controllo. Quest'ultimo però ancora si fa sentire perché l'app impostazioni non è ancora completa come il pannello di controllo, scusate la ripetizione di parole, ogni cosa a suo tempo. Per questo, fin da Windows 7, è disponibile una cartella nascosta, chiamata Good Mode, con tutte le impostazioni del pannello di controllo. Per attivarla è semplicissimo, basta creare una nuova cartella, con account amministratore ovviamente, in qualsiasi percorso del PC e reanimarla in questo modo. Aprendo la cartella saranno presenti 200 voci raggruppate in 40 categorie, con moltissime funzionalità e settaggi secondari. Per rimanere sempre aggiornato sul canale, ti consiglio di iscriverti ed attivare le notifiche. Grazie a tutti! Grazie a tutti!